Ok, per fare questo esercizio vi servirà una benda elastica, fissatela a un sostegno molto al di sopra della vostra testa, portate l'elastico dietro di voi, per avere maggiore stabilità assumete una posizione quasi di affondo, i gomiti saranno all'altezza della vostra testa e con entrambe le mani andremo a distendere le braccia verso in avanti, ritornate in posizione di partenza e ripetete. Grazie